Nella prima settimana di ottobre gli agenti faunistico ambientali del servizio tutela fauna e flora della città metropolitana di Torino hanno recuperato nel territorio del comune di Monastero di Lanzo, su segnalazione di cittadini residenti in zona, un esemplare di biancone, Circhetus gallegus. Il rapace è stato visitato dai veterinari del Kank, il centro animali non convenzionali della facoltà di medicina veterinaria dell'università, convenzionato con la città metropolitana. La visita non ha evidenziato particolari patologie, si suppone quindi che si tratti di un giovane esemplare, nato magari un po' in ritardo, che non ha fatto in tempo ad essere pronto per la migrazione invernale verso l'Africa, tipica della sua specie. Il biancone passerà l'inverno in un tunnel di riambientamento di grosse dimensioni ad Avigliana, per poi essere liberato nel momento del passo degli esemplari della sua specie nel nostro territorio. La particolarità del biancone, rapace diurno di grosse dimensioni, con un'apertura alare che sfiora i due metri, è la dieta composta esclusivamente da serpenti e in maniera marginale da sauri. Il Circhetus Gallicus si può tranquillamente definire uno sterminatore di serpi.